Una circolazione depressionaria contenente aria fredda in quota è posizionata sulla pianura padana. Il corso del fine settimana si sposterà nuovamente verso nord, verso la Germania. Avremo quindi sabato parziali condizioni di instabilità che interesseranno prevalentemente la costa e la bassa pianura, con nuvolosità variabile e la possibilità di qualche locale rovescio temporale. Variabilità interesserà anche le altre zone della regione, ma la probabilità di qualche debole pioggia rovescio sarà decisamente più bassa. Temperature in dieve calo, minima intorno agli 8-10 gradi sulla pianura, intorno ai 12-13 sulla costa, massime sia in pianura che sulla costa tra 15 e 17 gradi. In montagna eventuali precipitazioni assumeranno carattere nervoso oltre i 1500 metri circa. Domenica sarà una giornata caratterizzata dalla nuvolosità variabile, con maggior nuvolosità e probabilità di qualche locale rovescio temporale sulla costa e sulla bassa pianura. Sulle altre zone questa probabilità sarà presente ma in misura minore. Temperature stazionarie o forse in lieve aumento di 1-2 gradi per quanto riguarda i valori minimi, e le massime rimangono invece intorno ai 16-17 gradi, sempre sulla pianura e sulla costa. Quota neve intorno ai 1500-1600 metri circa. Nella notte tra domenica e domenica vi sarà una maggior probabilità di rovescio temporale su tutta la regione per il passaggio di un veloce fronte, e poi un migliore aumento seguirà probabilmente appena partire da martedì. E dall'osservatorio metodo dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta.